Diremmo una bugia se dicessimo che il ritorno di Alfredo Natale a San Nicolò abbia colto di sorpresa i più. Perché Alfredo Natale e San Nicolò evidentemente sono destinati magari a lasciarsi ma poi a ritrovarsi. Eh sì, probabilmente il destino mio calcistico è quello di farlo a San Nicolò e San Nicolò ritiene che le strade debbano continuare sempre insieme. È vero che ci si lascia, si riprende sempre con enorme entusiasmo a parte la stima che c'è nei confronti di tutti. Però penso che faccia anche bene a tutti staccare perché poi l'entusiasmo si rinnova e quindi si hanno nuove idee, si hanno nuove proposte, si ha più voglia di fare. Se non ricordo male l'ultimo anno di Alfredo Natale a San Nicolò coincise con una finale playoff e in molti pensarono che il San Nicolò ha toccato l'apice della propria forza. Forse per questo Alfredo lascia, insomma era la mia interpretazione. Il fatto che oggi tu torni lì dove hai sfiorato la C, la Lega Pro, che vuol dire? Vuol dire che probabilmente in quel momento personalmente ero un po' scarico e forse come hai detto tu giustamente aver toccato il punto più alto al di là della promozione diretta fu una stagione esaltante in merito di tutte le componenti del San Nicolò e questo non lo dico tanto come prassi. È chiaro che sono tornato a San Nicolò con la voglia di fare bene, certo dire meglio dell'ultima volta che ci sono stati. Vorrebbe dire Lega Pro. È difficile, però sicuramente riagganciare i playoff come punto di riferimento, sicuramente con delle idee da sviluppare nel corso dell'anno. Ultima annotazione, brevissima. Lega Pro, Serie D, eccellenza. Teramo riesce ad esprimere quello che altrove non si riesce ad esprimere nemmeno per un terzo del proprio valore. È un limite o una forza di Teramo? Tre realtà, tre belle realtà, è vero. Non credo che una piccola città come Teramo, una piccola provincia come Teramo, possa esprimere tutta questa realtà caolcissima perché non ci dimentichiamo che non ci sono solo le punte delle prime squadre, ma dietro c'è tutto un movimento di giovani che è in fermento. Io sono un fautore dell'Unione, tu lo sai perfettamente. Anche se non dovesse esserci quest'Unione, però sicuramente insieme con, ripeto, obiettivi diversi e idee diverse, sicuramente Teramo calcistica e sportiva migliorerà sicuramente. Per le Unioni, chiedo scusa a Marco perché ci salutiamo su questa considerazione, per le Unioni secondo me è difficile farle in due, figuriamoci, farle in tre, però è cosa che auspichiamo.